Giuseppina Lotito è oggi rappresentato l'ufficio scolastico regionale della Puglia. Lei ad un certo punto ha detto intitoliamo una piazza, abbiamo intitolato una piazza a Giuseppe Di Vagno, ma è bene che i ragazzi conoscano queste persone. Perché intitolare una piazza a Giuseppe Di Vagno? È stato importante per i ragazzi questo percorso formativo. Giuseppe Di Vagno molte volte rappresenta delle intitolazioni a delle piazze, i nostri ragazzi magari le hanno per scontato a questo nominativo. E invece grazie a questo percorso formativo guidato dalla fondazione e dall'aiuto naturalmente dei docenti hanno potuto approfondire questa figura, che è una figura maestra, una figura dalla quale possiamo trarre tutti gli insegnamenti per poter rappresentare l'insegnamento della democrazia, di tutti quei valori che conducono a far sì che i nostri ragazzi si maturi in una coscienza critica, un pensiero critico e possa consentire loro di essere dei cittadini, i cittadini dell'oggi se vogliamo e anche del domani. Quindi è molto importante ecco nelle scuole valorizzare questa figura e anche altre figure, ma naturalmente queste figure che come dire ci conducono a ricordarci i motivi per i quali e grazie ai quali siamo in una situazione di democrazia e di libertà.